In un mondo, in un mercato che è sempre più globale, una competizione che è sempre più difficile, diventa elemento strategico per tutti noi produttori di trasmissioni italiani, ma anche europei, fare sistema per affrontare le difficoltà che i mercati ci chiedono. Credo che in Italia, dove c'è questa concentrazione di aziende molto piccole, sia molto importante mettersi insieme perché tutti abbiamo problemi simili. Finché ogni azienda tratta i problemi singolarmente, difficilmente ha una massa critica tale da riuscire a risolverli con successo. Sui giornali si parla sempre delle aziende molto grandi, ma quelle piccole nessuno se le fuma. Se ne mettiamo insieme diversi decine o centinaia, ecco che invece abbiamo un peso e quindi possiamo dialogare anche con le istituzioni, così come riescono a fare le aziende grandi. Il motivo principale per cui abbiamo deciso, come Scheffler, di associarsi e di rimanere all'interno dell'Asciot è perché crediamo nel valore del sistema. Troppo spesso le aziende italiane sono molto valide, sono flessibili, sono efficienti, ma poi su mercati esteri non risultano vincenti, in quanto vanno da soli e agiscono da soli. Penso che il vero valore aggiunto dell'Asciot sia proprio questo, fare gruppo, fare sistema, cercare di portare avanti il Made in Italy nel mondo. Siamo tornati in Asciot perché il marchio DEM è sempre stato in Asciot. È presente in tutti i mercati mondiali, ha un grande passato e ha anche un grande presente, speriamo anche un grande futuro. Bonfiglioli è stato uno dei soci fondatori di Asciot. Da allora la Bonfiglioli è sempre stata impegnata in Asciot a diversi livelli. Noi riteniamo di dover confermare e aumentare questo impegno per cercare di costruire un tavolo intorno al quale gli operatori del nostro settore riescano a confrontarsi su temi comuni che possano aggregare valore, costruire strumenti di analisi, strumenti di carattere statistico, strumenti promozionali per consentire alle aziende del nostro settore, che hanno anche magari una dimensione inferiore alla nostra, di poter promuovere e meglio pianificare le loro attività. Il fatto di avere anche dall'associazione informazioni economiche di tendenze o comunque riuscire a parlare con colleghi può dare sicuramente opportunità e di avere visibilità un po' prima e quindi questo diventa molto importante per la sopravvivenza stessa dell'azienda. Confrontandosi con aziende del stesso settore, delle stesse dimensioni e anche aziende più grandi che magari hanno sviluppato altre idee o altre tecnologie, si può insieme crescere. Insieme crescere vuol dire poi creare un sistema di cui beneficiano tutti. Si stimola la concorrenza, si stimola l'innovazione, si stimola quello che poi permette al sistema di essere attrattivo per possibili clienti esteri e nazionali. Siamo iscritti all'Asio fin dalla sua fondazione e continueremo a supportare questa associazione a beneficio dell'industria italiana nel mondo. Il mondo sta cambiando e chi riesce a far rete sicuramente otterrà dei risultati migliori. Credo che l'obiettivo di Asio sia proprio quello di aiutare l'imprenditore a risolvere alcuni problemi che da solo secondo me non riesce. Quindi insomma dare un supporto maggiore e una forza al lavoro. Asio perché è l'associazione che raggruppa tutti i produttori di ingranaggi e non solo. Rappresenta il nostro settore in ambito istituzionale, rappresenta sul mercato, ci aiuta nelle fiere, ci aiuta per l'esportazione. I nostri concorrenti oggi non sono solo gli europei, ma sono i cinesi, sono gli americani, sono i giapponesi. Vediamo solo le piccole aziende che lavorano a livello locale, quindi con questa crisi estremamente importante e selettiva, diciamo sono rimasti, tra virgolette, per strada. Mentre quelli che hanno avuto una visione, hanno un prodotto che si colloca a livello globale, sicuramente non soffrono di queste problematiche. Asio ti aiuta praticamente a raggiungere queste tue mete. È un luogo dove ci si fa compagnia, dove ci si confronta serenamente, è un luogo dove dobbiamo cercare un attimino di ritemprarci e dobbiamo trovare un nuovo slancio, non pensando al nostro concorrente come la persona da battere, ma pensando al nostro concorrente come la persona che ci fa migliorare e assieme alla quale combattere sui mercati internazionali, quello sì. Ci siamo associati a Asiot perché riteniamo che attraverso un networking più profondo si possa far emergere l'industria italiana degli organi di trasmissione nel panorama internazionale. Perché l'Italia è il secondo produttore di organi di trasmissione in Europa e si classifica sul podio a livello mondiale. Perché è un'associazione che ha fatto della storia e della partecipazione delle proprie aziende un valore aggiunto che contribuisce a migliorare il prodotto, che contribuisce a migliorare il servizio, ma soprattutto che dà lustro al paese d'Italia. Perché Asiot ci dà un vantaggio competitivo fornendo dei servizi che ci consentono di migliorare le nostre performance. Quindi in definitiva, perché no Asiot?